E' morta la persona che si è lanciata sotto un treno della metropolitana rossa M1 a Milano lo scorso venerdì 27 gennaio. Non è stato ancora reso noto se la vittima sia un uomo o una donna. Purtroppo nonostante i soccorsi siano accorsi sulle rotaie tempestivamente, il decesso è avvenuto sul colpo. Si tratta di un suicidio in quanto secondo le testimonianze la persona si è gettata volontariamente sotto il treno.